Pronto? Sì Senta, il veliero già l'avete venduto? Il veliero? Sì Adesso si fa il filmato Sì, grazie Pronto? Pronto Scusi, ti chiamo da quest'ora Sì, grazie Ma il veliero ce l'avete venduto? Sì, sì Ma ce l'avete venduto? Ma non è rari per il telefonone Mi dovete scusare, però io volevo solo sapere se l'avete venduto Perché se l'avete venduto... Non l'avevi venduto E il prezzo è 600.000 Ma se lo metto a mare ci posso andare dentro? Quante persone c'è? Sì, se lo metto a mare c'è da Cain Ma Cain Ma non è merita a me Ma non è mai Ma non è più Sono la più Buona fulgine, mi vuoi che l'ho?